La mia è una cucina 2.0. È il posto dove la mia visione prende vita. Nuova, un club sandwich no salsa takeaway. Mi piace immaginare la mia cucina come un piccolo ristorante. La mia cucina è il mio palcoscenico. Ogni settimana quando vado in scena ho centinaia di spettatori che aspettano di vedere quello che creo. Allestisco la scenografia. Luci, motore, azione. La mia cucina è nel mio cuore ed è dove voglio passare ogni mia giornata. La mia cucina è un sogno e i sogni possono diventare realtà. Grazie. Grazie.